Finalmente inaugurata l'area archeologica di San Mauro a 90 di Piave, insediamento romano riportato alla luce a conclusione di un progetto articolato avviato dalla soprintendenza per i beni archeologici del Veneto nel 2009 e che vedrà il comune impegnato alla manutenzione dell'area esterna. Noi abbiamo una realtà che copre circa 300 comuni nell'area orientale del Veneto e quindi da Feltre fino al Basso Padovano, effettivamente abbiamo tutta una serie di centri di interesse archeologico che vanno tutelati, che vanno aperti e quindi per garantire la fruizione bisogna anche conservarli al meglio. Alla collaborazione dell'amministrazione comunale, la soprintendenza e parrocchie di San Mauro Martire si aggiunge il fondamentale sostegno per quasi un milione di euro da parte di MacArthur Glen. La nostra azienda è sempre molto attenta alle esigenze dei territori nei quali opera, e l'aspetto della valorizzazione delle strutture culturali destinate alla popolazione a beneficio anche delle scuole e della popolazione di studenti è una cosa che ci sta particolarmente a cuore per cui siamo stati tanto orgogliosi di prendere parte assieme agli attori istituzionali e pubblici a questo grande progetto di valorizzazione per la comunità del nostro piccolo paese e oggi di restituirla ai cittadini e ai giovani studenti. A breve è in programma di avviare un progetto di valorizzazione dell'area archeologica e degli altri luoghi significativi di interesse storico collegati attraverso un calendario di visite guidate ed incontri pubblici. Quello che è l'impegno del Comune e la sfida più importante che mi sono preso io come amministratore è quello di fare in modo che ci siano dalla primavera prossima delle visite guidate che ci permettano di far conoscere i nostri scavi e la nostra storia a tutto il territorio.